Ciao a tutte, oggi sono qui con un nuovo video outfit, stavolta per il giorno, quindi molto casual, appunto io sono appena tornata dall'università, quindi comunque un outfit comodo per tutti i giorni, quindi comincio dal viso, ovviamente capelli lisci e sciolti come al solito, il mio solito trucco allungato con il pigmento nero e sulle labbra ho messo questo rossetto qui di Kiko, oddio, questo rossetto qui, che è un nude, insomma, è il colore delle mie labbra praticamente, ed è matto ma è molto cremoso, quindi anche piacevole da avere, poi invece ho messo semplicemente questa collana che appunto ha la catena a pallini e poi questa piastrina che appunto ricorda quelle dei militari, no? E mi piace abbinato a questo outfit. Come borsa ho usato questa qui, che è nera ed è gigante, con tutte queste borchie, presa dai cinesi, perché appunto è giorno, quindi mi serve una borsa grossa per tenere tutti i libri e tutte le varie cose che mi servono per l'università. E niente, ora vado di là e vi faccio vedere i vestiti. Quindi, allora, con i miei vestiti ho messo questa maglietta, che è appunto grigia, con questa scritta Awesome, e mi piace molto perché è stretta sulle maniche e poi scende giù morbida appunto, quasi a vestitino. Insomma, questa è la S, perché la M mi stava veramente lunghissima, cioè mi doveva qui, sembrava un vestito, quindi ho preso la S e è molto bella perché è un tessuto molto morbido, molto piacevole. Poi ho messo dei semplici leggings neri e come scarpe invece ho messo queste qui di Bershka, che hanno la zeppa interna e sono molto bombate, quindi vedete sono proprio grosse. E appunto mi sembravano adatte per quest'outfit. E quindi niente, questo è l'outfit per intero, io spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio e al prossimo video!